Raffo Dov'è Ugo? Tutte quelle notti quando si faceva boom Eh, aspetta Ti ha girito, state zitto un attimo Potevo sempre contare su Zofia La persona più forte che abbia conosciuto Abbiamo passato la vita cercando di essere perfette Figlie perfette Studentesse perfette Soldate perfette Alla morte di nostro padre piangemo Ma quel giorno seppellirono anche una parte di Zofia La parte che la rendeva mia sorella Ma si può parlare? No, silenzio Sì 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 Ho passato anni a cercare di ritrovarla, ma alla fine non c'era più niente da dire. Nostro padre si vergognerebbe di te. Nostro padre è morto, ma tu mi hai lasciata sola. Lascia pure che continuino a giocare come bambini. Questa è la tavola degli adulti, tesoro. Sono sempre stata leale a loro. A lei? Sì. Ma la domanda che devi porti è... Sono stati leali con te. Tranquilla, Ela. Hai seguito il tuo cuore e ci vuole davvero fegato. Benvenuta in famiglia, tesoro. Allora, faccio un attimo un riassunto questo filmato. Aspetta. E ci siamo preparati per affrontarlo. Sta continuando. La nostra simulazione ha prodotto i leader e le squadre che riporteranno Rainbow nel cuore dell'azione. Loro saranno il martello, il bisturi e molto di più. Nighthaven non è giunta del tutto inaspettata. A volte per la ricerca dell'illuminazione si rinuncia a una parte di se stessa. Il cammino deve essere percorso da chi è fedele all'unità e al nostro mandato iniziale. Mi auguro che il percorso intrapreso dai nostri ex compagni sia giusto e retto. Per il loro bene. Allora, voglio vi faccio un attimo un riassunto. Praticamente il gruppo Rainbow si è sciolto in due entità più piccole. La squadra Rainbow principale si è sciolta, ma si è divisa in due unità. Ci hanno fatto il filmato. Praticamente Zofia ed Ela si sono separate. Anche se sono sorelle hanno scelto due gruppi diversi. Why you? Non c'è niente da dire. Ela rimane sempre l'operatore più pucchiaccone di Rainbow Six. È la pucchiacca definitiva Ela. Niente da dire. Ma faccio scorrere un po' di tempo e poi mi salvo gli ultimi minuti. Amici miei. Fratelli. Hanno messo un nuovo operatore. Si chiama Sense. Ah, e Ugo ti aspetto per la live. Ad esempio. Ad esempio. Ad esempio. Non farlo rischiare che domenica deve venire da me. Non vorrei che poi la madre gli vieta di venire perché è già sceso sabato. Domenica viene la mattina e se ne torna la sera. Perché non chiamare a fare una bella colazione tutta sera? Ne hai capito no cazzo? Vai in a minore. Ah, ma fa un po'. Cioè scusa Raffaele, tu non hai mai voluto fare no cazzo? Ma che t'hai ci portato a una volta o a un bar? Ma devo fare colazione tutte santi giorni. Ma che buono. Anzi. Vieni. Ecco, infatti sono felice. Però cazzo. Io dovrei dare una vita e ti dico vieni. Mo che sei venuto. Mo finalmente era la voglia. Quindi mi devi dare ragione amico mio. Buonasera. Buonasera eh. Sire, sire. Mi muto un attimo tutti. In che modo Nighthaven è coinvolto nella morte di Yahata. Qui Lion. Ci siamo quasi. Sans fa davvero sul serio. Non ne ha lasciato in piedi nessuno. Ti manchiamo già capo? Non preoccuparti. Queste milizie non sono una gran minazza. Percevuto. Conoscete i parametri. Lion, contatta Clash mentre esci. Lo so. Recuperare il VIP. Raggiungere il resto di Wolfgard. Tornare per cena. Allez. Bisù. In posizione. Abbiamo compagnia. Prima. Maggiungere il cuore. Valiamo. L'alunso. Chassi, chiara. Valiamo. In posizione. Chassi, chiara. Chassi. L'alunso. Chassi, chiara. Sì, chiara. Chiara. Gu hatesini. Chassi, chiara. La gente ha troppa fiducia nella Forza Bruta. Se non ci sono obiezioni, ce ne andiamo con il nostro amico. Ok, è finito. Siete tutti quanti on. Ah no, Raffaele deve passare. Mario! Ci dica! Dici che dica! Il tempo che mi aveva mutato, già mi stava portando un euro. Che la merda sia con me! Ma devo aspettare gli ultimi due minuti perché devo salvare e clippare su YouTube. Sto a posto, c'ho sia quella del past sia quella della nuova season. Perfetto. È Rainbow Six Siege. A proposito, ed è vero, è quello che ho detto, Ugo sei pregato di giungere. Davvero? Quanto la vuoi far durare? Non troppo, non troppo... non troppo...